finalmente siamo arrivati su quest'isola c'ho fame da giorni che non stiamo mangiando già anche io non ci abbia fatto dopo tre ore di piaggio l'abbiamo fatta qua cerchiamo di comportarci bene perché siamo in territorio ostile infatti costa la città sorvegliato botto da la marina ora molto piraterci ha visto malissimo vogliamo ho provato tu chiederà qualcuno del cibo perché io sono un po' tutte le parti qua non c'è niente signore avrebbe del cibo cosa che c'è di scritto no niente è entrato in una casa della marina no speriamo che non tanto l'hanno ho visto tanto bene che la scelta ma che si trova te lo natale io posso capitare guarda come picchia ma chi posto riva ma che stanno vediamo dentro il barbicchiano e cisini c'è niente il barbicchiano mi aspetta mi aspetta ma no i tuoi i tuoi 4 vedi qua guarda lo signore mi ha dato lo sta chiave ma non lo voglio provare dentro ma si ti sono i tuoi c'è la gu penso che la mia basti ok proviamo andiamo il luo salvi ma non c'è nessuno guarda stanno delle taglie sui muri secondo te su chi sarà se non fatti irruzione a cortizia la marina era qualcuno che forse devrà fare irruzione però c'è l'Italia oh però sembra un ristorante vogliamo vedere dentro i barbicchiano se c'è qualcosa si ti tieni tra di una chiave apri nel qualcuno tu vedi trovi qualcosa ok vediamo un po' cosa non c'è cos'è sto cosa secondo te cos'è cosa hai trovato ho trovato questo un attimo fa vedere sembra uno di quei frutti della leggenda i frutti del diavolo e cosa dovrò fare in teoria dicono che chi li mangia gli vengono acquisiti dei poteri ho devastato penso che non puoi nuotare da quel che ho sentito parlare quindi se cadiamo in acqua ehm non ci sarà via di scampo per noi capo spero provare a vedere il giugno dire mangiavole che espulsa un frutti ci può dare vitalità di nuovo l'ho trovato uno anch'io ma sembra tipo una pera esatto però è azzurra oh io lo so che ti dico c'ho fame non ce la faccio più è da una settimana che non mangiamo oh cosa è successo ma pure tu ti senti boh strano oh ma che succede ragazzo del fan segnale questo segnale non volevo venire qua scappa scappa chiudi 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 corri via corri via esattamente che qua dentro non dovevamo entrare siamo finiti nei casini qua qualche roba dove stai sarò qua sarò qua vieni dobbiamo fuggire via da sto posto aspetta aspetta se noi moce siamo messi nei casini la nostra nave dobbiamo tornare a porto torna veloce è andata via no son troppi son troppi ma non ce la facciamo no no ma dove ci troviamo dove siamo ma siamo tipo una nave ma di sì ma io sento qualcuno che si sta picchiando ma mi sa che qua siamo sotto coperta ma che è ma dove siamo capitati non lo so usciamo fuori eh ma che ci fanno queste ancora ma siamo in bezzo siamo in mezzo a una guerra tra pirati e marine aiuta piccola 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 non vincerete mai è impossibile ma quando mi colpiscono faccio il fuoco perché perché vado a fuoco cosa succede io mi sa che ci lascerò le penne no scappi c'è il capitano c'è il capitano chiodi chiodi no 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 siamo siamo morti no no che cazzo è successo come si avessi la tuta guarda qua fuori ma dove sta qua? c'è una risa tra pirati ci vogliamo venire a loro in fondo cioè siamo pirati ma dobbiamo sconfiggere la marina cioè ormai siamo diventati dei fuorilegge ma si ma si ecco qua uno vai 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 picchio l'interiore sta controllo controllo ogni angolo e i sogni mi è stato un pachetino e dice che ce l'abbiamo fatto se vuole più invece sta il capitano della marina qua 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 ce ne sono due ce ne sono due ce ne sono due gamba e niente boss nel prossimo episodio prima di affrontare un mondo ganna e i pirati qua non li uccidiamo ora no è la nostra oppure vogliamo non vivere con loro lasciamo i pirati lasciamo i pirati siamo pirati in fondo fanno tutti così quindi riprendiamo che abbiamo sterminato cioè non dai che siamo dei doppio giardisti se no vi riteniamo la nostra giurma eh si riteniamo riteniamo e vabbè qui c'è secondo e vabbè qui c'è secondo che sta dando problemi ai pirati esatto esatto e non te voli per liberare la zona vabbè se ce la faremo e se distruggiamo un'altra parca qui c'è qui c'è qui c'è qui c'è bello 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 bello